Ciao a tutti ragazzi qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con il quarto numero delle grandi Ferrari F1 Oggi ci apriamo la SF71H di Kimi Raikkonen e se mi state chiedendo Visio ma come fai ad averla già adesso non lo so ragazzi Probabilmente per lo stesso motivo per il quale voi avete ottenuto prima i primi tre numeri a me sono arrivati qualche giorno dopo Questa volta è arrivata in edicola sono passato come sempre però io li avevo aggiornato sui miei social vi lascio qui sotto mi raccomando andate a lasciare un bel pollicione Se volete essere sempre aggiornati e venire con me in edicola perché io vi avviso sempre Quindi sarebbe dovuto uscire il 14 oggi è 10 spero di riuscire a farvelo uscire proprio oggi il video immediatamente perché peraltro sembra una macchina bellissima Comunque cosa importantissima dovrebbero essere le ore 16 quindi alle ore 12 è uscito un video molto importante dove vi racconto del nuovo canale Telegram Visio TV Modellismo Non canale ma gruppo Telegram Ve lo lascio qui sotto mi raccomando l'ho creato per tutti voi appassionati di modellismo, di Formula 1, di rally, di tutto il mondo del racing Mi raccomando se siete interessati veniteci a raggiungere dove ci faremo chiacchiere su questi modelli Mi raccomando Ragazzi dunque oggi questa SF71H che secondo me è bellissima e per la prima volta possiamo ammirarla con le Decals Mission Winnow Anche questa cosa non mi chiedete perché non le hanno mai messe fino ad ora e adesso ce le ritroviamo Noi non possiamo che esserne stracontenti perché è una macchina completa quindi non ci lamentiamo e non facciamo troppe domande Ragazzi ma prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice dall'insù Mi raccomando iscrivetevi al canale e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle grandi Ferrari F1 Dove potete trovare non solo i primi tre numeri ma dove troverete anche tutti quelli che usciranno in futuro Perché sì il vostro viso e la collezione la farà tutta quanta Raga banda alle ciance ci spostiamo sotto ed andiamo ad aprire questa spettacolare Ferrari di Iceman Perfetto ragazzi pronti via e andiamo va siamo già arrivati al quarto numero comunque stiamo andando Piano piano sembra che queste collezioni siano lente ma di base stiamo andando e come Allora via la cartaccia eccola qua le grandi Ferrari F1 uscita numero 4 la SF71H 2018 di Kimi Raikkonen Questa ragazzi secondo me sarà ispirata al modello che ha vinto ad Austin unica vittoria del 2018 per il finlandese Il prossimo numero qui non ce ne parla se non sbaglio questi li troveremo in fondo Allora come detto ragazzi la SF71H una macchina che iniziò alla grande se non sbaglio vincendo subito la prima gara con Seb Poi purtroppo un po' di errori al muretto un po' tanti errori di Seb ricorderete sicuramente il Gran Premio in Germania Dove sbagliò e andò a sbattere mentre era in testa ampiamente in vantaggio Purtroppo poi ci furono come detto tutti questi errori che portarono ad un mondiale consegnato in mano alla Mercedes C'è da dire però che comunque questa macchina fece una bellissima figura magari gestita in un altro modo e con qualche miglioramento nel corso dell'anno Avrebbe potuto sicuramente dire di più la sua Comunque 21 gare 6 vittorie e 18 podi tra cui 7 secondi posti ed 11 terzi posti e 6 pole position Quindi raga numeri devo dirvi di tutto rispetto ovviamente la Mercedes era un altro mondo su questo non c'è dubbio ma di certo non fu una macchina a fare brutta figura Eccola qua il prossimo numero che peraltro era apparso già mi ricordo che alcuni di voi su Instagram me l'avano già mandata La 312 T4 di Gilles Villeneuve del 1979 anche con il profilo alare posteriore molto più esteso rispetto a quello a basso carico che abbiamo potuto vedere nelle grandi Formula 1 di Jody Schecter Va bene allora ragazzi miei pronti via Andiamo un po' di aprire il nostro modello Allora vediamo se in questo modo ce la faccio Perfetto Andata Allora sono quasi certo che questa volta saremo di fronte ad un modello X Andiamo a guardare le viti Ovviamente sono a testa triangolare Come quelle che tanto odiate Allora andiamo a togliere lo scotch Che come vediamo è ovale e non rotondo Quindi esattamente come la F1 2000 di Michael Schumacher Apriamo la tega e andiamoci a guardare questo meraviglioso modellino Eccola qua Intanto ve la giro così leggiamo anche la scritta Ferrari SF71H Kimi Raikkonen 2018 Allora come sapete mi sono soffermato in edicola che ne erano arrivate tre A guardare più possibile le antenne che in questo caso sono tre Ne abbiamo una piccolina nera Quest'altra grigia più lunga e quest'altra ancora più piccolina proprio quasi attaccata all'alo Molto carina peraltro questa antenna con la parte nera Vedete colorata di nero la punta che secondo me ci sta Peraltro gli spessori sono ottimi mi piacciono Stessa cosa lo possiamo dire per il tubo di pitot Il tubo di pitot che come potete vedere è molto puntato verso il basso E in edicola ce n'era una che praticamente era ancora più schiacciato Quindi ho cercato di prendere questo che diciamo non è troppo troppo schiacciata la punta Sono andato a guardare comunque le immagini reali della SF71H Ed effettivamente comunque il tubo di pitot tende ad essere un po' così spostato verso il basso Quindi sotto questo punto di vista va bene Poi andiamo a guardare l'ala anteriore Ragazzi l'ala anteriore che secondo me è fatta davvero davvero molto bene Come potete vedere ragazzi i profili alari sono infiniti Ci sono mille ali e mille contro ali Però devo dirvi sono state realizzate molto bene Innanzitutto torna la colorazione nera a dividere ogni singola aletta Che nonostante siano tutte quante attaccate va a nascondere questo fatto E sembrano quasi divise l'una dall'altra Quindi ottimo Peraltro guardate come sono attaccate bene le Degas Mission Winnow Degas che in quel punto su quelle ali sono un po' complicate da attaccare Quindi devo dirvi ci hanno fatto un gran bel favore Poi guardate anche in questo caso quanti dettagli ci sono Anche tutte queste ali sono con il bordo nero Che fa un bellissimo effetto Quindi ragazzi devo dirvi che tutto sommato Questa ala anteriore mi piace davvero tantissimo Andiamo a guardare le sospensioni Che purtroppo ahimè sono prive di scultura Insomma di finto carbonio Questa è una cosa che fa soltanto buraco ormai Lo sapete Però devo dirvi che gli spessori sono buoni Anche la qualità della plastica secondo me è abbastanza buona Poi andiamo a guardare il fondo dell'auto Anche in questo caso raga Veramente super ricco di dettagli Guardate quante cose ci sono E devo dirvi che mi piace anche in questo caso Peraltro guardate i profili secondo me sono di un ottimo spessore Posso dirvi che il mio voto è assolutamente positivo Andiamo a guardare l'interno del cockpit Fatto molto bene Si vedono sicuramente le Degas delle cinture gialle Eccole là E anche lo sterzo vi assicuro che è colorato Magari è un po' buio ma si può apprezzare anche dal video Sto vedendo che si vedono sicuramente i pulsanti bianchi e rossi Fatti molto bene Peraltro guardate anche la T-cam con questi piccolissimi dettagli neri Sicuramente molto bene Stessa cosa che vediamo anche sul cofano motore Guardate tutti i punti dei rivetti come sono stati ben fatti Le Degas secondo me sono attaccate molto bene E anche il fondo dell'auto è scolpito benissimo Certo peccato non c'è il finto carbonio sarebbe stata raga proprio da voto 100 Cioè io penso che con il carbonio scolpito sarebbe stata alla pari di un modello da 200 euro Insomma 29,90 Direi che ci siamo Molto carina anche la parte dell'ala posteriore Con questa piccola barretta che anche nella macchina reale risultava un po' piegata verso il basso Vedete che anche in questo caso è un po' piegata L'unico piccolo difetto che ho trovato su quest'auto è che l'ala posteriore è leggermente storta Non so se potrò fare qualcosa magari qua con il phone andando a scaldare un pochino Potrei provare a sistemarla un po' Si vede abbastanza però fortunatamente poi raga quando voi andate a disporre il modello Si vanno a nascondere questo tipo di problemi Però effettivamente questo problema ce l'avevo Ho scelto questa, me ne ero accorto devo dirvelo Però ho scelto questa perché comunque tutte le antenne tubo di P2 erano troppo migliori rispetto a quelle altre che c'erano in edicola Di conseguenza mi sono accontentato di questo piccolo difetto Comunque ragazzi tutto sommato la macchina è veramente bellissima Adesso come facciamo sempre Abbassiamo un po' la camera e andiamo a togliere questa brutta plastica Quindi come sempre facciamo entrare il nostro cacciavita di insetti con la punta a testa triangolare 2.7 Vi lascio come sempre il video dato che siete sempre in tanti a farmi questa domanda Ed inoltre vi ricordo che sotto in descrizione nella sezione i miei strumenti Vi lascio tutti i link Amazon per poter acquistare questi strumenti che appunto utilizzo per fare i video Allora intanto la prima vite ce la siamo staccata Adesso andiamo a staccare anche la seconda Siamo sicuri al 100% che avremo anche una mini basetta sotto il fondo dell'auto Esattamente come fa sempre X Quindi andiamo a togliere la macchina Eccola qua Vedete ragazzi? La mini basetta E direi che a questo punto senza perderci troppo in chiacchiere Andiamo direttamente a riagganciare il modello Perfetto ragazzi Lavoro completato Devo dirvi che nonostante le viti siano uscite in maniera molto molto facile Sono proprio venute senza opporre nessun tipo di resistenza Quando le sono andate a reinserire invece hanno fatto un pochino di resistenza Quindi ho trovato un po' di difficoltà Vi consiglio di appoggiare le mani sulle pance laterali Va bene? Quindi andate a premere in questo punto Onde evitare che con il resto della mano non rischiate di andare a schiacciare le antenne Perché ragazzi il danno poi diventa molto molto brutto da vedere Comunque una cosa assolutamente importante che voglio farvi vedere È mostrarvi la scala 1 a 43 Sempre della SF71H di Kimi Raikkonen Questa è sempre la collezione Centauria delle Ferrari S1 Collection Come potete vedere una cosa che si nota tantissimo è la diversità di colore Guardate il rosso come è differente È molto più acceso quello della scala 1 a 43 Devo ammettere che su questo punto non sono sicuro di qual è il colore più giusto Magari, visto che voi siete sempre super informati Fatemelo sapere con un commentino Se secondo voi a livello di colorazione è meglio quella 1 a 43 o la 1 a 24 Di dettagli ragazzi ovviamente non c'è paragone Allora innanzitutto sono completamente assenti tutte le antenne radio Guardate il tubo di Pito realizzato proprio da bene meglio E guardate anche l'ala anteriore Tutta appiccicata, tutta plasticosa Ma anche il musetto, gli spessori del musetto Non ci siamo proprio Sembrano quasi che le due parti laterali siano larghe quasi quanto quella centrale Poi guardate quanto è plasticoso tutto il settore delle sospensioni anteriori Anche le prese d'aria dei freni Insomma realizzata un po' così Guardate anche la parte posteriore Ragazzi questa 1 a 24 Non c'è proprio paragone Guardate gli spessori come sono perfetti Vi faccio vedere anche la parte posteriore Che peraltro prima concentrandomi sull'ala posteriore non ho ben valorizzato Guardate che belli gli scarichi E devo dirvi anche il faro posteriore È ben ben realizzato Quindi ragazzi devo dirvi non c'è proprio paragone Questa costa 15 euro Questa costa 29,90 Direi che il doppio del prezzo è assolutamente giustificato Andiamo a riposizionare la nostra Ferrari Intega Bellissima Eccole qua Vi alzo un pochino la camera così ve le mostro insieme Poi insomma queste Mission Winnow così gratis regalate Ma quanto siamo felici Bellissima è E dunque cari ragazzi Anche per questo video è davvero tutto Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale Premere sulla campanellina Per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite E se questo video vi è piaciuto Lasciate un like bellissimo Come questa Ferrari mi raccomando Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto Se avete preso anche voi questo modello E se avete intenzione di fare tutta la collezione Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto Io vi ricordo ancora una volta del nuovo gruppo Telegram Visio TV Modellismo Mi raccomando vi aspettiamo Vi do appuntamento con il prossimo numero Che non vedo già l'ora che esca Qui da Visio e dalle grandi Ferrari F1 è davvero tutto Io vi mando un grosso saluto Ciao ciao